musica ed eccoci qua raga ritornati in questo nuovissimo video questo è il mio gioco trova le parole tra pochi giorni uscirà il nuovo gioco indovina cosa sono è un gioco adatto a tutti tutti quanti ora non vi posso far vedere la pagina così dell'altro gioco perché purtroppo è un gioco che cioè se vi facessimo vedere la schermata ci sarebbe dei dati che potrebbero essere personali quindi non posso farvi vedere nulla quindi vi posso vedere intanto soltanto questa schermata è un gioco davvero adatto a tutti e dove ci possono giocare davvero tutti e tutti quanti questo vedranno tutte le persone che ci giocheranno e andranno su pressa vedranno solo queste quattro immagini e queste tre quindi questo è il mio contatto con lo sviluppatore le normative sulla parevasi e questo è il gioco per vederlo giocato l'ho fatto un video anche prima ora ve lo farò vedere appunto andiamo qui vediamo se Clash of Clans ha fatto perché se dovrebbe avesse aver fatto questo è il gioco l'inizio è così vediamo se nel livello 1 posso comprare i suggerimenti non credo però perché ho sbagliato a mettere l'account praticamente ho collegato un account cioè l'account che deve essere collegato alle pubblicità non è collegato ed è sbagliato quindi le pubblicità e queste cose arriveranno un po' più in là non mi preoccupate se ci metterò tanto tanto tempo a pubblicare le pubblicità ma purtroppo si vede a mettere l'account dove far arrivare le pubblicità dove mandare le pubblicità quindi non non ci sono problemi arriveranno proprio tardi però pertanto possiamo avere i suggerimenti giochiamo vieni alle per esempio adesso non mi darei suggerimenti perché bisogna andare a fare il livello nuovo se voi fate un livello già fatto non mi darei suggerimenti vi dirà di comprarli quindi raga se questo gioco vi sia piaciuto io vi aspetto in tutti quanti che ci giocate e ora via con clash of clans e via con clash of clans oggi siamo quasi in questo nuovo video perché dobbiamo fare una bellissima partita su clash of clans oggi questo è il mio account in realtà mi danno una grande mano a clash of clans per portare nuovi contenuti e bellissimi contenuti sempre nuovi sempre nuovi e sempre più potenti di prima e sempre più grandi che noi nel clan siamo in 46 di 50 siamo tutti attivi e sempre parolacce eh questo è il tag del clan ma non servirà più il tag del clan perché vi potete trovare tutti 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 quanti faremo facciamo davvero tantissimo giocare fra clan e facciamo davvero tutto bruce è il primo del clan guardate che villaggio che c'ha per dirvi bruce come per dirvi tanti altri giocatori vabbè non è che sta avendo tanto tempo oggi per giocare ma lui ci gioca davvero tutti i giorni e se non ci gioca recupera sempre quello che non ha fatto i giorni prima spero che il mio clan vi convinca è che voi dovete entrare tutti sono tutti a questo livello ma non voglio farvi vedere gli altri per pura privacy allora elemento incandescente ok ora ci facciamo una bellissima bellissima partita via allora lui no vediamo un attimo eh quale poter eh questo sarebbe buono ma un po' troppo forte no bello sto villaggio lo voglio fare è Ahah! Bene raga, vediamo un po' come sta andando questo attacco, un po' non schifo eh! Eh, sta andando male, l'attacco sta andando male, eccellente! Nooo, i draghi sono morti tutti! Bene raga, una stella è più che sufficiente! Bene raga, il bonus stella per quattro c'era, c'era e poi è finito raga! Eeeh, c'era una cosa importante, io, ma what? Oh, ora mi stai dicendo che non serve più l'elisir per queste tru... 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 Bellissimo raga, allora, ora vi farò vedere l'altro mio account, tenetevi pronti, è un account da paura! Ve lo farò vedere, anzi scusate, non ve lo posso vedere adesso, ve lo farò vedere nel prossimo video, l'altro mio account è tenuto benissimo! E' un altro account davvero davvero bello, io a questo gioco ci gioco da anni, però perchè non sono più forte e Bruce è più forte di me? Perchè? Vi spiego! Eeeh, io, durante... quando ero più piccolo, ero un po' più piccolo, praticamente giocavo a Clash of Clans e volevo che Bruce, un mio amico, volevo che stasse ai miei livelli! Ma, ehm, siccome purtroppo lui ci poteva, non ci poteva giocare sempre quando ci giocavo io, cioè mai, quindi lui ci voleva giocare perchè era un gioco che gli piaceva tanto e tuttora gli piace, praticamente, ehm, giochiamo, ha giocato più di me, più di me, eccetera, e lui è arrivato più amante di me! Però c'è una cosa che io ho fatto, praticamente io un giorno, sono andato a scrivere, ehm, non mi ricordo cosa sono andato a scrivere, una cosa in chat, dopo l'ho chiuso ed ho aperto il gioco, nella chat globale, quella dove leggono tutti, che ormai l'hanno tolto, dove leggevano tutti, l'ho scritto una... non mi ricordo cosa, ho chiuso il gioco, ho aperto il gioco, mi ha fatto ricominciare dal livello 1, da tutto mi ha fatto ricominciare... Io ho provato a contattare l'assistenza, ma ho visto che non mi andava di starsi dietro, tanto dietro perchè ci dovevo stare dietro, eccetera, eccetera, e cose... E non mi andava e quindi ho ricominciato tutto da capo, ed ecco qua l'account rifatto dopo anni! Sono passati tanti tanti anni dall'ultima volta che ho perso l'account, e adesso non voglio rifare la stessa pecca... Quindi ho... Pecco e non voglio ricominciare da capo, perchè se così sia, chiuso la mia seconda account, non mi preoccupate senza contenuti belli, non mi lascio... Allora ragazzi, spero che voi vedremo i risultati di questo e abbiamo finito! Quindi... Allora... Allora Allora.. .. .. indi è un 3 stelle raga ma raga se questo video raggiunge cioè lasciate tutti un bel like commentate iscrivetevi perché ha raggiunto di 1000 iscritti follower sul canale viola dappertutto e voi iscrivetevi voi sapete il mio id instagram e da lì potete vedere canale viola e youtube su youtube mi chiamo online606 e sul canale viola online606 su instagram online606 trattino a basso e ho l'immagine di minecraft quindi raga tutti quanti a iscrivervi tutti perché così facendo potete aiutarmi a crescere ora finito questo andrò a mettere il link di ist cioè c'è i link di instagram anche su youtube ora metterò il link del canale viola cioè non posso mettere il canale viola perché potrebbero bannarmi quelli di youtube ma il link del canale viola lo trovate su instagram quindi entrateci tutti io farò molti più live su youtube ma comunque voi sul canale magari se dove mi dovete seguire no dove cavolo se qua su mamma mia che baglia ma mamma mia quante cose ci avrei detto a questo tutto io mi sarei spasato da lui ma non questo ma no ma dai che pizze mi due stelle quindi raga se questo video raggiunge 100 like io lì vi farò vedere come velocizzare un computer al massimo delle sue potenzialità come velocizzarlo come mandarlo a più prestazioni possibili quindi raga anche se è un computer vecchio voi potete farlo io vi dico ho velocizzato un pc di 15 anni fa almeno e è nuovo l'ho reso nuovo quindi raga se questo video raggiunge tanti like vi farò vedere un trucco per velocizzare un computer e renderlo nuovo solo dal software spero che questo video vi sia piaciuto se questo video vi lasciate tantissimo mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video entrate tutti nel mio clan sia dei dei che di clash of clans entrateci tutti e l'id del clan dei dei sta sui video dei dei quindi entrateci e noi ci vediamo in un prossimo video ciao